Dopo l'Emilia sarà la Campania il nuovo definitivo banco di prova del Movimento 5 Stelle prime del governo giallorosso subito dopo. La Campania Roccaforte dei Grillini, la Campania del dimissionario capopolitico Di Maio, ma anche del presidente della Camera Roberto Fico, la Campania di Vincenzo De Luca e del PD che non ha il coraggio di ricandidarlo. La Campania infine che le Sardine hanno scelto per il loro primo congresso nazionale a Scampia il 14 e 15 marzo, stesso giorno degli stati generali dei 5 Stelle, molto più di una coincidenza ci pare. Dopo il contributo decisivo che il Movimento di Santori e Compania ha dato alla vittoria del centrosinistra in Emilia ci si chiede da oggi cosa sono le Sardine? Resteranno movimento o confluiranno definitivamente in un attore politico come vorrebbe Zingaretti? E in Campania le Sardine per chi voteranno? Voterebbero per De Luca? Qualcuno pensa ancora che la risposta a questa domanda non sia rilevante, l'unico ad averlo intuito per primo è proprio De Luca che ora chiede per sé, per il partito, di seguire il modello Emilia. Il Movimento, che non vuole ridursi anche in Campania sotto la soia del 4%, sta vivendo in queste ore un travaglio senza precedenti. Da Pomigliano d'Arco, quartier generale del Movimento, arriva il primo sì all'alleanza con il Partito Democratico. La proposta è stata messa ai voti, il Movimento è diviso, la Cerambino si è opposta, ma alla fine è passata la linea del dialogo. Nel frattempo Forza Italia esulta per il risultato calabrese, Berlusconi riemerge dall'angolo, acquista maggiore peso nella coalizione, pregusta già la poltrona per Stefano Caldoro di nuovo a Palazzo Santa Lucia. Ma di fatto quel risultato in Calabria non sarebbe stato possibile senza Salvini e ora la Lega, ad urne chiuse in Emilia, mette il primo stop a Forza Italia e convoca il tavolo programmatico per la Campania. Noi sabato facciamo, siamo la prima forza politica in Campania che parte con il tavolo del programma perché qualsiasi nome decontestualizzato da programmi, dalla soluzione dei problemi, credo che sia un nome che sarà lontano dai cittadini. I nomi, ripeto, non è una questione, Stefano Caldoro è un carissimo amico, ho grossa stima personale nei suoi confronti, ma il nome, ripeto, è il punto finale di un ragionamento che comincerà a partire da domani mattina. Grazie a tutti.